ci siamo abituati che dopo una sconfitta immediatamente la squadra riprende il suo cammino ma io mi auguro perché insomma ci teniamo a ripartire con il piede giusto sotto l'aspetto della prestazione sicuramente sabato siamo un po mancati sotto questo aspetto a parte risultato negativo ma c'è stata una prestazione al di sotto delle nostre possibilità e qualità e quindi bisogna ripartire abbiamo lavorato secondo me bene in settimana prepararsi affrontare questa altra partita difficile dove sicuramente troveremo il fiolta una squadra specialmente reparto avanzato delle qualità importanti ma credo in tutto la loro rosa hanno bisogno di punti una squadra simile alla provercelli sotto certi aspetti di classifica e quindi bisognerà mettere in campo quelle sono le qualità dei ragazzi cercando di avere ancora più attenzione più fame più determinazione per far sì che la spa possa fare una bella gara e soprattutto portare a casa dei punti importanti cosa giudizio di l'onardo semplici è mancato la spalla a vercelli ma diverse cose diventa la bravura dell'avversario insomma specialmente dopo l'1 a 0 non abbiamo avuto la reazione abbiamo sempre avuto e quindi abbiamo analizzato i ragazzi le motivazioni per cercare far sì che queste cose non si ripetano però insomma sono convinto i ragazzi hanno capito così tra parentesi la lezione e siano pronti a tornare a giocare nella giusta maniera con la giusta identità di gioco davanti ai nostri tifosi ci teniamo a fare una bella gara e magari a passare anche un bel natale ci sarà antenucci si antenucci ho avuto quel problema ieri ma insomma oggi si è allenato e a disposizione magari da qui a sabato i ragazzi insomma siano tutti nelle giuste condizioni per mettere in difficoltà e per fare una formazione adeguata ad affrontare la tennata abbondanza da centrocampo in su invece segno emergenza in difesa sì ormai da tempo siamo in emergenza però insomma i ragazzi sono hanno sempre fatto le buone gare e quindi sono anche consapevole anche questa volta scendere a campo farà la sua partita e non farà del piangere gli assenti possiamo aspettarci qualche novità rispetto alla squadra inizialmente scesa in campo tercelli ma lì a rimassimo continueremo con quella prossima vediamo stiamo valutando bene le condizioni di tutti per capire un po se ci potrà essere qualche cambio o meno ovviamente tutti ci auguriamo a partire da voi logicamente per arrivare ai tifosi di poter passare veramente un buon natale per festeggiare questo anno favoloso ma comunque vada credo quest'anno sarà ricordato per un anno bello mi auguro ci sia anche una bella prestazione sabato e poi magari anche il 29 a bari per concludere un'annata sicuramente bella storica e quindi cercheremo e cercheranno i ragazzi di mettere in campo tutte vele sono le qualità per far sì che questo accada